La stagione del trofeo Bridgestone classe 1000 per il pilota sulmonese Cristian Micocchero si è conclusa la sforza domenica al Mugello con un quinto posto assoluto e un secondo piazzamento nella categoria Pro. Dopo una partenza non molto brillante il portacolori del motoclub Abruzzo si era esibito in un primo giro con una serie di sorpassi da brivido, successivamente un eccezionale rimonta dalla quattordicesima alla sesta posizione ed altri due sorpassi che gli avevano consentito di presentarsi in quarta posizione già al termine del secondo giro in sci alla velocissima BMW dell'Imole Sepoggi, pluricampione di questa categoria. Da qui in avanti Micocchero aveva inanellato una serie impressionante di giri veloci, migliorando ulteriormente per ben due volte il suo primato personale e dando l'impressione di poter lottare per un posto sul podio, ma da metà gara la sua spinta iniziale si è esaudita progressivamente a causa del decadimento nello pneumatico posteriore che lo ha costretto a difendersi dal ritorno degli avversari piuttosto che ad attaccare. È finita con una volata a tre dove è riuscito fortunatamente a contenere i danni perdendo una sola posizione. Non riesco a capire come sia potuto succedere, ha dichiarato, in quanto durante le simulazioni di gara fatte in prova con lo stesso setting un problema simile non si era mai manifestato. Sono comunque molto soddisfatto di come è andata e soprattutto per i progressi registrati. L'ultima gara di Micocchero è stata accompagnata dal tifo dei diversi sostenitori, giunti in particolare da Prato-La Perigna, appositamente intervenuti con tanto di striscione, che hanno espresso soddisfazione per il quinto posto assoluto e per il secondo piazzamento nella categoria pro. In seconda posizione da Prato al Mugello con Cristian ancora più bello. Al termine del campionato Micocchero traccia il bilancio che è quello di un inizio di stagione difficile con alcuni episodi sfortunati, ma quest'anno è riuscito a mettersi in mostra tra i vertici assoluti del motociclismo agonistico nazionale nella classe regina. Gli auspici sono buoni per candidarsi tra i protagonisti della prossima stagione. Grazie. 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 Grazie.